Cosa mi aspetto dal nuovo programma Erasmus? Sicuramente più lingue, più lingue soprattutto a partire dalla scuola dell'infanzia e quindi una maggiore sensibilizzazione anche delle autorità dei vari stati membri a promuovere i progetti di multilinguismo. Un'altra cosa che mi aspetto è anche più mobilità a lungo termine per gli studenti delle scuole superiori, quindi la possibilità di trascorrere fino a un anno in un paese europeo, però con il conseguente riconoscimento del percorso di studi quando ritornano nel loro paese. E sicuramente un programma Erasmus più inclusivo, rivolto a tutti, ripeto sempre partendo dalla scuola di base, dai famigli molto piccoli, e quindi dare a tutti la possibilità di vivere questa esperienza di integrazione, arrivando anche in quelle zone delle varie regioni italiane, dei vari paesi, più marginate, più su trasfrontaliere, nelle piccole scuole. Insomma un Erasmus di tutti, perché l'esperienza Erasmus è veramente un'esperienza di vita e attraverso questa esperienza si conoscono altre culture e si capisce veramente cosa sia l'integrazione.